Comunque, dopo che avete fatto questa inchiesta, amici di Fuori dal Coro, potete farne una per me, vi chiedo, per favore, per favore, io voglio sapere se Mario Giordano ha ancora i testicoli attaccati allo scroto, me lo domando da una vita, se lo domandano in tanti, secondo me. Ciao Marietto, ciao Marietto!